Pedonalizzare Corso Vittorio Emanuele a Pescara, secondo il volere dei cittadini. Il centrodestra chiede una seduta straordinaria di consiglio in comune per tornare a discutere e votare e lo fa dopo aver passato gli ultimi weekend a raccogliere firme per la totale chiusura al traffico. Stiamo assistendo ad una sollevazione popolare, i cittadini spontaneamente si organizzano per difendere quell'oasi di vivibilità che è diventata Corso Vittorio Emanuele. Ovviamente noi abbiamo sempre sostenuto che soltanto i mezzi pubblici dovessero passare sul Corso Vittorio Emanuele ed i residenti che avevano ovviamente il posto macchina ma questa è una scelta di vivibilità e di qualità della vita e invece oggi Alessandria e Del Vecchio vogliono che Corso Vittorio Emanuele torni totalmente al passato e penso che la discussione debba essere portata in consiglio comunale nel luogo deputato alle scelte della città con un consiglio straordinario aperto a cui tutti possano partecipare, possano dirla loro. La situazione si concentra sulla necessità di trasferire il traffico veicolare altrove per la precisione sulle arterie retrostanti il corso e cioè sulle zone dell'area di risulta. La nostra scelta di spostare il traffico veicolare di attraversamento sull'area di risulta in una zona non antropizzata dove non c'erano intersezioni era una scelta indovinata e innaturale per liberare Corso Vittorio Emanuele dallo smog. Oggi loro realizzano sull'area di risulta una strada alternativa però riaprono Corso Vittorio Emanuele. Che senso ha realizzare questa strada quando Corso Vittorio Emanuele riapre? Difendiamo la vivibilità di Corso Vittorio Emanuele e di tutta l'area pedonale perché è un'area che fa fare il salto di qualità alla nostra città e portiamo le macchine di attraversamento sull'area di risulta in maniera tale che ci sia una zona dove le macchine possano arrivare tranquillamente e possano attraversare la città e un'altra zona invece di rispetto ambientale.